Tanta carne a cuocere, c'è tanta carne a cuocere, vorremmo parlare anche del campionato che vi apre i battenti dopo la sosta che è costata la Juventus, due calciatori Cabal e Vlaovic, uno per un'infortunio molto grave, l'altro per una invece situazione molto più lieve per fortuna. Bentrovati a tutti quanti voi, ma incombe la politica del calcio, quel calcio oggi gestito da gente poco seria, da gente corrotta, corruttibile, da gente sulle quali incombe l'ombra della magistratura, sì perché la magistratura come ben sapete, come ormai striscia la notizia e tanti altri, corrono dietro a gravina per più situazioni che il presidente del calcio italiano vorrebbe evitare, ma non può evitarle, ormai sono incardinate queste inchieste e quindi sicuramente dovrà conviverci con queste inchieste. Nel frattempo la politica del calcio si muove proprio a favore di Gravina, come ben sapete alle prossime elezioni, Gravina può contare sul poggio dei dilettanti che è il maggior numero di delegati che quindi può essere determinante, può contare sulla Lega di Serie C, sulla Lega di Serie B, non sulla Lega di Serie A e quindi aggressione al presidente della Lega di Serie A dove vogliono piazzare il figlio di Carraro e poi dirottarlo al Cori. una situazione di grandissima preoccupazione per il calcio italiano perché questi balordi vogliono per forza mettere ancora le mani sul calcio italiano in questo modo. E l'alternativa, quella rappresentata da Lotito e dell'Aurentis al sistema Gravina, è un'alternativa che non muove i propri fili ancora, che non gioca a carte scoperte, che ha in mano determinate situazioni, ma in questo momento è soccombente perché Gravina è forte, Gravina è forte dell'appoggio appunto dei dilettanti della Lega di Serie C, della Lega di Serie B e meno della Lega di Serie A dove non riesce a trovare unanimi consensi proprio perché Lotito e dell'Aurentis stanno facendo la voce grossa ma non hanno i numeri in questo momento, non hanno assolutamente i numeri e la situazione è molto particolare perché appunto vogliono portare questo figlio di Carraro al CONI per blindare ancora di più, prima in Lega di Serie A e poi al CONI per blindare ancora di più la posizione di Gravina laddove un governo potrebbe anche commissariarlo attraverso il CONI perché come sapete poi è il CONI che si muove, allora vuole blindare il CONI, vuole mettere uomini suoi nel CONI anche Gravina, il CONI è diciamo la rappresentanza di tutte le federazioni e Gravina invece rappresenta il calcio perciò mira, punta decisamente a quella poltrona, una poltrona importante quella del CONI e tutto in advenire perché aggredire la Lega di Serie A e poi aggredire il CONI è l'elemento principale del sistema Gravina in questo momento, è un sistema che si muove con diciamo l'organizzazione che ormai è ottimamente piazzata in tutti i suoi diciamo movimenti, Gravina aggredito dalle inchieste, inseguito da Striscia alla Notizia e non solo ma anche da tanti giornalisti che non sono ventuti al sistema e come ben sapete il governo voleva commissariare la FIGC e anche il decreto Moulet è stato in parte affossato, c'è stato poi quell'organismo che doveva diciamo sostituire la COVISOC i cui rappresentanti di 4 su 5 sono scappati, sono scappati perché sono stati coloro che hanno imbrogliato per iscrivere la non iscrivibile al campionato ma c'è tanto, c'è tanto, davvero c'è tanto, ne hanno fatte troppe di porcherie di schifezze ora si ricandidano, ora si ricandidano, guardate si ricandidano, pensate un po' di questa situazione vi parla il bandito rossonero, andate a sentire il bandito rossonero perché a lui in questa vicenda è ben piazzato anche lui, ne sta dicendo di tutti i colori e fa bene, come vi invito ad andare su Gigio Juve perché Gigio Juve ha avuto delle soffiate su una eventuale squalifica a lunga gittata di Zanetti e lui vi spiega per filo e per segno quello che diciamo si può verificare e che si potrebbe verificare e le soffiate che ha avuto perché è giusto, è giusto che, è inutile che ripetiamo noi tutte queste cose che loro vi spiegano così bene, io vi rimando a questi diciamo importantissimi youtuber gente di grandissimo prestigio intellettuale che riesce a dirvi la verità per cui così evitiamo anche di ripetere poi c'è anche la vicenda degli arbitri Rocchio e Orsato una vicenda davvero molto particolare, molto strana, molto piena di situazioni poco chiare ecco, diciamo che il calcio italiano non se la passa troppo bene in questo momento dopo i fallimenti della Nazionale ci sono i fallimenti di Gravina ma soprattutto per un motivo, non vogliono punire la non iscrivibile è tutto lì, è lì che l'ingranaggio non va avanti dovremmo parlare di calcio, si riapre il campionato, c'è Milan e Juventus gran partita, grande passerella di scudetti, di coppe, di tutto quello che c'era da vincere tra le due squadre più importanti del calcio italiano, tra le più importanti del calcio europeo si gioca Milan-Juventus io credo che la Juventus può incappare nella prima sconfitta stagionale perché ritengo che, e naturalmente, grattatevi voi, noi juventini perché credo che la presenza di Vlaovic, e manco l'anno scorso purtroppo c'era in questa partita è molto molto interessante perché dà profondità alla Juventus al gioco della Juventus vedremo come sarà sostituito vedremo come giocherà la squadra io ritengo che l'assenza di Gonzalez è ormai un'assenza acclarata Bremer e Cabal non li abbiamo più quindi manca solo Vlaovic, tutto sommato a questa squadra manca solo Vlaovic, anche perché poi i giocatori di questo non li fa giocare Douglas Ruiz sta bene, può giocare benissimo se fa salire la qualità, toglie quei locatelli davanti ai coglioni e fa giocare Douglas Ruiz probabilmente questa squadra crescerà ancora prima del previsto ma avremo modo di parlarne anche nei prossimi contenuti per il momento mi fermo qui vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube Sergio Vessic ad attivare la campanella delle notifiche mettete un like se lo ritenete opportuno alla prossima grazie